L'hai letto il libro? Ciao, io sono Veronica e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Oggi ho deciso di farmi male. Ho deciso di voler registrare questo video di reazione a quelli che sono i commenti che sono stati dati ai miei libri preferiti. Quindi sì, voglio farmi male. Ma prima di assistere alle mie sofferenze, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Ok, ora guarderò giù perché ho il computer qua sotto e vado a cercare il primo libro che è Gli anni di Annie Ernault. Vediamo cosa esce fuori. Allora, cercherò delle recensioni... cioè recensioni... Chiamare le recensioni mi pare un po' esagerato. Comunque, dei commenti in italiano perché non vorrei qui, insomma, proporre delle traduzioni ambigue, molto problematiche, che non so fare. Quindi cercherò in italiano. Ok, ho trovato il primo. Leggiamolo. Allora, che dobbiamo dire? Io capisco che questo libro possa risultare pesante se non si è abituati a leggere cose di questo tipo, perché è un libro molto particolare, perché vengono annotate una serie di eventi, di situazioni, anche storiche e anche politiche. Ma il fatto è che, appunto, se lo reputi pesante, probabilmente non è il libro che fa per te, perché è proprio quello lo scopo del libro, ovvero andare a ricostruire quello che è stato un passato, quello che è stato un certo contesto storico, culturale, eccetera. E quindi lei si è proprio servita di questi elementi per andare a ricreare quelle atmosfere. Ovvio che se sono atmosfere che non senti tue, non conosci, oppure che non ti fanno né caldo né freddo, risultino pesanti, anche proprio per come l'autrice ha scelto di metterle nel testo. Quindi va bene, ci può stare, però appunto questa è una cosa molto personale, cioè non mi offendo perché è una cosa molto personale, insomma, uno un libro lo può trovare pesante, come può trovarlo in realtà molto toccante, molto stimolante anche, e questa persona non ci ha visto questo per carica, ci mancherebbe. Ok. Vincere un Pulitzer scrivendo solo di se stessi, che noia. L'hai letto il libro? Cioè, hai capito qualcosa? Perché poi ha vinto Nobel per la letteratura? Proprio perché è stata in grado di mettere insieme quello che è il racconto della sua autobiografia, quindi della sua vita, con quello che è invece il racconto di un'epoca, di un contesto, come ho detto prima, storico, culturale. Quindi, se tu ci hai visto solo questo, mi dispiace, ma o non l'hai letto, o non capisci quello che leggi. Cioè, mi verrebbe da di questo, cioè. Sono opinioni, sono opinioni. Facciamo così, facciamo che sono opinioni. Sono opinioni. Enierno ci spiega tutto nelle prime pagine di questo particolare romanzo. Le scelte narrative, l'uso dell'imperfetto, la decisione di parlare di se stessa odando alla terza persona e non la prima. Sono scelte che lei ha compiuto, chiaramente, con lo scopo di dare al libro la forma che desiderava e che ha desiderato per così tanti anni. Eppure, queste impostazioni, soprattutto l'utilizzo del lei per parlare di sé, hanno creato in me una distanza. Ho sentito l'autrice lontana, impersonale, senza un vero io, senza una vera forza autobiografica. Chiaro, è solo la mia impressione e le vicende autobiografiche che costituiscono, non a caso, le pagine migliori, sono in fondo poche e si situano in maniera marginale nel mezzo delle ripercussioni storiche e sociali di una Francia lontana da noi. Riferimenti culturali, cinematografici, letterari e politici, un elenco di personaggi che non sempre riusciamo ad afferrare. Un testo che forse non riesce a essere all'altezza della sua ambizione. Se non altro, l'inizio e la fine sono molto belli. Mi lascerà sicuramente nella mente proprio quell'immagine del tempo che passa. Di noi che prima o poi, inesabilmente, spariremo insieme ai nostri ricordi e alle nostre immagini. Ok, questa non è una recensione così negativa, anche se questa persona ha dato due stelle. E la cosa che però mi viene anche qui da dire è che, cioè, qua c'è scritto, senza una vera forza autobiografica. E però era questo lo scopo, cioè, era questo lo scopo, non era parlare di sé, ma con la scusa di parlare di sé, parlare di altro, di altre persone. Era questo lo scopo del libro e secondo me l'autrice ci è riuscita benissimo. Cioè, questo era lo scopo. Se poi non ti è piaciuto, ok, però questo era lo scopo del libro. Questo distacco che l'autrice crea, lo crea proprio per far capire che quello che lei sta raccontando è la sua vita, ma come la sua è quella potenzialmente di qualsiasi altra persona, o in particolare donna, perché poi le vicende che lei racconta e che tratta, le tematiche che tratta anche negli altri suoi scritti, comunque sono tematiche molto vicine, ovviamente, al vissuto femminile più che a quello maschile. E quindi niente, non è che ci sia tanto da dire. Adesso vediamo invece il secondo libro che ho letto lo scorso mese, quindi sono molto fresca ed è già diventato il mio libro preferito, quindi non provateci. Un uomo che dorme di perec. Vediamo. Inutile. Pesante e illeggibile. Ho saltabeccato da una pagina all'altra cercando uno spunto. Un motivo per continuare. Ho letto l'ultima pagina per sapere come finiva. Poi l'ho chiuso e ho deciso che non meritava altri sprechi di tempo. Già comprare questo libro e pensare di trovarci quella trama tutta costruita, tutta... Non è questo. Cioè non è questo. Questo libro non è questo. Questo libro non è una trama. Questo libro non ha... Cioè ha una trama, per carità. Ma la trama... Non è il libro. Fa parte del libro, ma non è il libro. È ovvio che se tu... Leggi qualche cosa a caso, poi vai a vedere l'ultima parte del libro e lo abbandoni. Perché... A parte che neanche se avesse una trama, è che tu vai a leggere l'ultima parte e allora poi dici, sì, basta, voglio vedere come finisce. Questo libro non finisce. Questo libro non finisce. Questo libro non ha la pretesa di descriverti una storia, di partire da una premessa e arrivare ad una conclusione dandoti una risposta. Questo libro non fa questo. Questo libro non dà risposte. Questo libro ti vuole far mettere lì a pensare, a tirar fuori cose da te. Non ti vuole dare risposte. Non ti vuole infilare cose. Vuole che tu ti sforzi e le tiri fuori da te. Leggendo, cercando di capire quel testo, cercando di entrare dentro a quella che è quella narrazione scombinata, fatta quasi di pensieri sparsi. Perché leggere non deve essere per forza sempre una cosa piacevole, ma ci sono dei libri che non sono fatti per essere un diletto, ma sono fatti per starci dentro, per sguazzarci dentro, a volte capirci qualcosa, a volte un po' meno, riprenderli, per essere vissuti. Perché a quei libri non basta che tu li legga dall'inizio alla fine e dica, boh, la trama era questa, interessante. Questi sono libri che ti vogliono stimolare a pensare. Quindi, non è che se tu mi vai alla fine e vuoi cercare la conclusione, a parte che ti apri Google e te la trovi subito, non è che devi andare lì a cercartela nel libro, anche perché come la trovi la fine, dove è la cosa che determina la fine di un libro. Non è che nelle ultime pagine hai la conclusione di una storia, a volte tu arrivi alle ultime pagine e il libro è già finito da un pezzo, ma quello che ti porta alle ultime pagine è altro. Cioè, è un po' semplicistica questa cosa. Io l'avevo detto, l'ho letto da poco, quindi questa cosa mi dà abbastanza fastidio. Andiamo avanti, che non ci vuole ingazzarmi ulteriormente. Uno spunto, cioè, ma poi tu, ma veramente, ma tu prendi un libro per avere uno spunto, cioè, ma leggiti un aforisma, cioè, io non lo so. Ma un libro non serve per uno spunto, cioè, dico, aspetta, io mi prendo uno spunto, scusate, basta, andiamo avanti. Sicuramente è un libro che fa riflettere. Due stelle. Cosa stavi cercando? Scusami. Cioè, ma... Ma che vuol dire? Un libro che fa riflettere. Cioè, quindi è una cosa negativa per te, visto che hai dato due stelle? Cioè, non ho capito. Non ho capito. Bene, io direi di passare al prossimo, perché mi sta venendo male di testa, che è la figlia unica. Perché ho deciso di fare questa cosa? Comunque, non sono una di quelle persone che si arrabbia facilmente. No. No, no. No. Un libro pieno di banalità e di luoghi comuni. Unico pregio, si legge in un giorno e si dimentica in un'ora. Interessante questo commento, perché l'ultima parte sembra proprio una frase fatta, però a questa persona non piace i luoghi comuni. Comunque, luoghi comuni, perché luoghi comuni? Perché l'autrice si serve dei luoghi comuni? Perché è questo che fa. Perché l'autrice ci riporta quelli che sono i luoghi comuni sulla maternità, su come vengono considerate le donne dalla società, eccetera. E lo fa proprio per andare a criticare questi luoghi comuni, per andare a creare una narrazione che sia invece opposta a questo. E che quindi riporti uno sguardo molto più vasto di quello che è il concetto di maternità. E lo fa, secondo me, anche molto bene, perché dà diversi punti di vista della maternità. E non mi pare un luogo comune, cioè come ha raccontato la maternità. Secondo me, proprio no. Poi, pareri? Altro. Avevo letto delle recensioni così entusiaste che non ci ho pensato due volte ad acquistarlo. E invece sono rimasta delusa, molto delusa. Una narrazione slegata, superficiale e noiosa. Capitoli veloci, ma non collegati tra di loro. Personaggi non definiti e con cui non ho provato nessuna empatia. Una storia che si lascia leggere, ma che dimenticherò presto, per non parlare della solidità delle ultime pagine. Mi rendo conto di essere una voce fuori dal coro, ma a me queste storie sulla maternità, su decidere se essere madri o non esserlo, non hanno lasciato proprio... Non hanno lasciato proprio niente. Che i capitoli siano veloci è vero. Che non siano collegati fra loro, non credo. Cioè, io non ho affatto avuto questa impressione. Anzi, anzi. Per non parlare dell'assurdità delle ultime pagine, sì, perché si parla di non monogamia, si parla quindi di rapporti aperti, di una realtà diversa. Ci fa paura? Può essere, però è una realtà, è una possibilità. Poi, infatti, questa persona dice, mi rendo conto di essere una voce fuori dal coro, ma a me queste storie sulla maternità, su decidere se essere madri o non esserlo, non hanno lasciato proprio niente. Vabbè, cioè... Boh, ci può stare che non ti abbiano lasciato niente. È un peccato, perché poteva essere una possibilità per vedere dei punti di vista diversi da quello che è il tuo. E... non so, potrebbe essere un'occasione persa. Poi, ognuno, ovviamente, la vede come... come crede. Non c'è niente da dire. Passiamo all'ultimo libro, che è Gente nel tempo di Massimo Bontempelli. Anche questa è una lettura molto recente. Vediamo che cosa... che cosa ne esce. Allora, di questo pare essere piaciuto, perché... come commenti a una stella, in realtà, su Goodreads ne abbiamo... zero? Una? Mica ho capito. Ce n'è una, ma non è stato scritto nessun tipo di commento. Poi, invece, ne abbiamo... abbiamo due stelle. Anche qua, dieci persone hanno dato due stelle, ma non hanno voluto fare i commenti. E credo. C'è niente da dire. Avranno sbagliato, probabilmente, perché... Infatti, poi... Comunque, non si trova niente di cattivo, di... niente che possa farmi arrabbiare. Vado a cercare da un'altra parte, quindi vediamo un po'. Se ci trovo qualche recensione negativa. Pare che sia piaciuto a tutti questo libro, perché... non trovo nessun commento negativo. Boh, neanche a due stelle, che sono il 6% delle persone che l'hanno letto, appunto, hanno dato due stelle come valutazione, però non hanno lasciato nessun commento, quindi nulla. Tre stelle. Il 21% ha lasciato, tre stelle. Non ha detto niente. È un libro bellissimo, cioè, non l'avete ancora letto? Leggetelo, fatelo perché merita. E non sono l'unica a dirlo, a quanto pare. Quindi merita questo libro, assolutamente. Niente, è un finale... grandioso, cioè, io mi aspettavo di dovermi arrabbiare sui commenti negativi a gente nel tempo, invece qua non c'è stato, mi hanno graziata. A quanto pare non mi vogliono così male, no? Quindi... è andata bene, è andata bene. Pensavo che sarebbe andata peggio, invece è andata bene. E nulla, siamo giunti e giunte al termine di questo video. spero che questa tortura sia stata divertente almeno per voi, perché per me non lo è stata, se non si era capito. E niente, ci vediamo nel prossimo video. Grazie.